tanto si muovono davanti si muove oliose adesso da bs carrera si volta con un elemento anche della team giorgi presente in questo attacco a due poteva essere privi terra presenti poi tra unità anche per la team work service con l'azzurro di wallong gong federico savino coadiuvato oggi da andrea cagnino viero alessandro borgo e poi una tante manchi nel forzo giovane pescantina con cesare chesini e con cristiana piffer davanti è il turno del team giorgi con samuele privi terra quattro piazza d'onore quest'anno l'attivo per lui ancora in caccia della prima vittoria stagione samuele privi terra ligure oggi al lavoro a lavorare al supporto di luca jaimi sarà lui l'uomo indiziato a fare la corsa del finale per il team giorgi davanti dunque sta lavorando tutto adesso il ligure samuele privi terra oggi in totale servizio di capitano luca jaimi lo marca stretto seconda ruota federico savino promesso sposo quest'anno l'anno prossimo della continente alla della strudale quick step passa adesso comando savino che ha vinto quest'anno una gara una tappa della costa della pace in repubblica cieca sei vittori stagionali per savino il forte atleta toscano che passano al prossimo pro della continentale della sud a quick step lavora ancora tutta adesso per aumentare la sondatura privi terra cercando dunque di impedire gli avversari adesso di sorprendere nel cui testa gli avversari del team giorgi appunto e dunque lavora adesso per tenere un ritmo alto importante privi terra l'altro fa l'ultimo forcing prima di spostarsi prima di lasciare comunque il teatro della sfida in salita alle ali e poi a luca jaimi lungo le rampe del vallone appunto è il gruppo di testa che entra costantemente l'ultimo giro e poi tra circa tre minuti vedremo anche il passaggio del gruppo eseguitore lavora adesso a tutta samuele privi terra testa bassa per la fede team giorgi a totale supporto oggi di luca jaimi tiene sul ritmo elevato privi terra per permettere che nessuno possa uscire adesso dal gruppo comando per sorprendere capitano luca jaimi che avrà poi anche in stefano le hanno un'altra arma pedina fondamentale al suo fianco quando la santa si impenderà lungo le rampe del vallone si sposta privi terra passa salvino adesso al comando e poi interessa ruota è già pronto anche entrare in azione il campione bergamasco stefano le ali ora lunga federico savino dunque potrebbe essere questo punto raccagnino viero a far la corsa in casa work service che il campione toscano di di quest'oggi mentre ora si sacrifica adesso con il fossing federico savino per tenere altro ritmo in questa fase e passa ancora generosissima comando samuele privi terra che rilancia adesso per tenere altro ritmo in questa fase di costa quando mancano circa 10 km traguardo arrivano anche gli hotelli arriva anche mico coloberti così come il comando arriva anche gabile casalini dell'hotelli sempre ci indirizziamo adesso a monticelli brusati da lì poi intraprenderemo tra circa tre chilometri e mezzo le rampe del vallone 800 metri con punte al 25 per cento passa casalini al comando in magliotelli tenere adesso alto il ritmo lo scalatore bergamasco qui intanto sul traguardo dove a breve vivremo il gran finale tra circa 15 minuti del trofeo polisportiva camiglione medaglia d'oro giuseppe presti lo facciamo con esso con 13 uomini al comando in difficoltà adesso tenere il ritmo sembra essere cristiana piffer il prossimo possiamo dare la presa in questo gruppo al comando il trentino piffer già in difficoltà nei precedenti chilometri in coda al gruppo e lì chi fa d'elastico in questa fase piffer mentre davanti è sempre e comunque privi tè adesso a totale servizio dei compagni di squadra in questa fase circa 3000 metri e poi intraprenderemo le rampe decisive altamente spettacolari del vallone 800 metri al 25 per cento un pugno verso al cielo al cielo questa salita inciotolato del vallone spettacolare la vivremo sugli schermi di peneta ciclismo con la diretta youtube completa di quest'oggi integrale di questa manifestazione partita stamattina alle 10 con l'attacco di 14 uomini nell'imbocco del terzo giro attacco decisivo che poi quando hanno mollato dietro inseguimenti gli assali stefan hanno avuto hanno avuto vita facile qui davanti hanno già perduto le ruote in questo gruppo emanuele picco in questo interdice del suo comando ma a breve saranno ancora di meno perché a breve affronteremo la rampa decisiva del vallone si mantiene in coda il trentino cristiana piffer la zona pescantina poco avanti il capitano il suo capitano che cesare chesini occhio che cesare chesini oggi è molto veloce chesini sanno già battuto in volata a figli di prato savine priviti alentarmi i componenti di questo gruppo al comando priviti alla chiesa lavora sodo per i compagni già i mileali in questa fase e poi divano gli hotelli con casalini dietro con la colloberti a forzare il ritmo in questo momento mentre ci avviciniamo sempre di più a intraprendere a breve le rampe del vallone per il gruppo a comando pochi minuti traguardo finale da vivere assieme sulle pagine ufficiali youtube dipendente al ciclismo e l'hotel adesso a scandire il ritmo in testa al gruppo dietro si mantengono nascosti walk service con noviero raccagno noviero con savino con borgo in coda invece sempre lo soglia pescantina con cristian piffer inizia lo strappo adesso inizia lo strappo per il gruppo comando per il vallone in coda sembra mollare piffer con in maglia hotelli cede anche casalini la rampa lo strappo adesso in ciotolato nel vallone a scremare spettacolarmente il gruppo al comando molla adesso primi terra rimangono in 12 sta per mollare anche casalini forcing invece al comando di nicolò righetti adesso che prende con forza la testa della corsa il forte scalatore bergamasco adesso l'assalto adesso l'offensiva lanciata da nicolò righetti che tutto solo accelga adesso ritmo in testa al gruppo sta letteralmente volando in cima al vallone nicolò righetti ma si supermercati una fiondata clamorosa adesso per l'alfiega della massi che si alza si pedale adesso per imprimere un altro ulteriore a lungo al comando nicolò righetti uno spettacolo oggi salita per il forte e bassissimo scalatore della massi che ha fatto letteralmente il vuoto ha schiantato tutti sulle rampe del vallone adesso il cuore della salita del vallone nicolò righetti un forcing un'accelerata una rasoiata potente per righetti questa righetti questa fase che rilancia con il ritmo sta volando letteralmente sul vallone nicolò righetti bergamasco del team massi supermercati gli ha schiantati tutti in questa fase a righetti ha fatto il vuoto poi però sarà facilmente mantenere il vantaggio in discesa e poi sull'ultima rampa del del fantecolo da lontano praticamente si prova adesso a righetti anticipare tutti quanti lui che vanta 5 vitone stagione l'ultima bellissima ricordiamo in cima alla bra a bracca l'altro video bracca di luglio dove batte tanti grandi scalatori e oggi si riprova in cima al vallone adesso rilanciare in solitaria nicolò righetti in questa classica di finestra zona classica delle foglie morte possiamo dire in provincia di brescia per juniores una sorta di giro di lombardia per juniores e questa è trofeo polisportivo camiglione che vede adesso l'attacco diretto di nicolò righetti ora in discesa con un vantaggio comunque già importante che sta appunto scavare fra se gli pressari in questa fase sul vallone e ora planare negli ultimi 5000 metri verso il rientro camiglione lui che ha colto l'anno scorso il terzo posto questo traguardo oggi voglia migliorare il piazzamento di 12 mesi fa e ci prova in solitaria dietro inseguono fra gli altri chesini e altre maglie che adesso inseguono a righetti che testa bassa adesso prova in solitaria addirizzosi verso il rientro in camiglione ancora una rampa breve a fantecolo e poi sarà planata a finale l'ultimo chilometro la camiglione sul mentre dietro si spezza anche il monitor sulla sinistra nicolò righetti al comando la destra invece in seconda battuta con numero 116 Stefano Leali team giorgi che adesso solitaria prova di inseguire in battistrada un mantovano sulla destra un bergamasco sulla sinistra adesso al battagliare per il finale di costa testa bassa per nicolò righetti in caccia da un colpo clamoroso a fine stagione a camiglione sulla destra invece si rialza adesso il mantovano Stefano Leali che adesso provverà a cercare manforte dietro alle sue spalle dunque si volta adesso Leali per cercare manforte alle sue spalle per vedere chi avrà le forze di dar manforte in seguimento arrivano altri atleti con Giaimi Chesini con Norcagni Noviero arriva anche Coloberti è presente anche Giaimi dunque agli ultimi 3000 metri già presente già arrivato Nicolò righetti che vanta pochi secondi di vantaggio solo contro sette adesso l'alfione della massi supermercati un attacco iniziato sulle rampe del vallone una un'elecita solitaria impressionante quella di righetti che adesso prova a mantenere un vantaggio risicato sugli avversari in questa fase sempre più vicino all'ultimo chilometro intanto Nicolò righetti mentre dietro sono in sette tra i quali anche chiude adesso il forte veloce al fine della zona pescantina Cesare Chesini pochi secondi di vantaggio che possono ancora bastare per righetti che è agli ultimi chilometri di cossa ci sarà l'ultimo dente adesso a Fantecolo per a righetti che sul piano adesso vanta 150 metri di vantaggio ora tenendo favorevole al fuggitivo perché dietro su questa viale dritto lo vedono c'è la mia lina c'è il riferimento di a righetti ed ora lavorano come work service e team George in particolare per chiudere sul battistrata che vanta ancora 150 metri sul piano adesso Nicolò righetti dunque comunque campione regionale a cronometro lombardo dunque anche nelle sue corde doti da cronomen a righetti che testa bassa adesso mani stretta sul manubrio presa bassa prova adesso lezione solitaria mentre dietro adesso c'è alleanza fra Giorgio e work service per chiudere su a righetti in cui fa incandescente per il trofeo polisportivo a camignone tutti contro tutti questo finale mentre a righetti ora si avvicina si si diventa traguardo finale mancano circa 2000 metri al traguardo per a righetti dietro 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 provano a qualizzarsi work service e team giorgi presente ancora anche chesini per la gioia in pescantina presente anche in maglia autelli mico coloberti e poi tre unità per il team giorgi due anzi due unità per il team giorgi due unità per la work service mentre davanti prosegue la recita di di nicolò a righetti spettacolare oggi a camignone a righetti dopo il terzo posto di 12 mesi fa oggi ci riprova in solitaria il forte passista scalatore bergamasco dal massimo supermercati dietro uniscono le forze work service team giorgi è presente raccaglie noviero con savino che adesso tira una fiondata in testa al gruppo per provare a chiudere definitivamente il distacco con con a righetti poi un tandem del team giorgi con le ali qui inquadrati seconda battuta e con luca gianni che ha nelle sue corde poi la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nello sprint finale si dice te invece si prepara invece al sprint dietro cesare casini ancora 150 metri di vantaggio attenzione perché non è in questo momento si è luca gianning in sempre presente con con stefano leali in questo gruppo mentre davanti prosegue ancora la recita solitaria di nicolò a righetti testa bassa per l'alfiere della massimo supermercati si sdoppia anche lo schermo adesso altra trainata della work service con raccaglie noviero sono in quattro adesso ha di seguire ammolato leali in questo caso per il team giorgi è morato anche savino per la work service è presente invece ancora con roberti per la per la spigatore hotel i presenti anche chesini per la usonia piers cantina testa bassa invece per la righetti pochi secondi ancora del vantaggio ora si coalizzano dietro cambi rapidi per provare di seguire adesso in questo finale con il rientro in camignone per i battistrada e per i seguitori più diretti sono in quattro ancora 150 metri circa di vantaggio di speranze per nicolò a righetti contro uno contro quattro adesso davanti la giorgi che insegue adesso in prima battuta la in fondo con ancora 50 metri vantaggio a righetti che è entrato già nell'ultimo chilometro che sono presenti già nell'ultimo chilometro anche contro attaccanti sta per essere ripreso in questo momento a righetti dagli contro attaccanti giorgi il primo a chiudere e poi qui in fondo il con collo berti della spigatore hoteli con chesini della zona pescantina con andrea cagliano via della work service è già gli ultimi 700 metri invece nicolò righetti con pochi metri di vantaggio ancora da amministrare a rientro in camignone un attacco bellissimo nella città iniziata in cima sulle rampe del pallone dove si è involati solitari adesso vanta ormai pochi metri di vantaggio sugli seguitori occhio perché qui si controllano anche sta già arrivando all'ultimo rettilineo nicolò righetti si seguito dal momento del team giorgi potrebbe essere luca già i misprint lanciato negli ultimi 50 metri battaglia 2 tra a righetti e noi del team giorgi che passa in questo momento a comando e va a vincere dunque luca jaimi del team giorgi un seguimento infinito ha scavalcato solamente gli ultimi 50 metri un bravissimo nicolò righetti vince a camignone dunque fa il bistro per vittoria dell'inizio anno ad aprile il 25 camignone luca jaimi e oggi coglie il sesto trionfo stagionale come aveva aperto chiude i conti camignone quest'oggi ad ottobre luca jaimi team giorgi era favoriti di giornata e nel finale ha inseguito alla grande nicolò righetti e si imposta con un rush a infinito un seguimento infinito festa dunque in casa giorgi festa il patron carlo giorgi l'abbraccio anche in casa team giorgi una gara sapientemente condotta dal team giorgi che portato poi il suo uomo principe passando il suo capitano a giocarsi al meglio il gran finale bravo comunque bravissimo anche chapeau per nicolò righetti che fino alla fine ci ha creduto dopo una plena azione cavalcata iniziata lungo le rampe del ballone ha ceduto solamente agli ultimi 50 metri a un imperturbabile luca jaimi intanto torniamo con quelle immagini anche sul traguardo di camignone con noi il vincitore luca jaimi giusto accento indovinato eccoci con microfono dunque luca solo per solo per chiudere un attimo battute finali tu hai detto che li riserva anche quest'anno ai mondiali questo quale segnali importanti che tu comunque hai voluto dare se diciamo che subito dopo la mancata convocazione mi sono messo in testa che volevo diciamo dimostrare che comunque valevo infatti subito nella settimana del mondiale ho fatto due vittorie oggi la terza e che dire meglio di così non si poteva ultima cosa volevo ringraziare la squadra tutti in particolare anche gli accompagnatori gabbiadini mario la famiglia savio che ci supporta ad ogni corsa ovviamente presidente carlo giorgi che ci permette tutto questo a leone malaga che ci supporta e ci motiva ad ogni corsa ea tutta la famiglia anche a le varie persone che mi supportano 20 dunque a luca jaimi vincitore oggi del trofeo camignone numero 28 grazie luca possiamo passare già al secondo classificato si è involato un numero micidiale quando colori gett in salita sul vallone stavi volando ma è mancato pochissimo nicolò sì non pensavo di avere questa gamba per il finale perché nei giri precedenti non ero il top però visto che stavo bene allora allungato sul vallone che lo conosco bene e sono rimasto da solo speravo di farcela e mi sono accorto della presenza di jaimi all'ultima curva e mi ha passato la scorsa terza classificato sono secondo ma anche pochissimo ormai per te la prossima invece dovete vedremo anno prossimo vado a correre nella bs carriera e abbiamo già un po programmato adesso staccherò un po per il finale di stagione e poi sarò pronto per il debutto di direttanti buco al lupo nicolò grazie passiamo invece adesso terzo classificato ausonia davanti con due unità nel gruppo di testa con christian piffer e con cesare chesini che era il capitano in casa ausonia quest'oggi terzo posto comunque importante il tuo ci dai oggi abbiamo dato tutto per tutto non sia riusciti a vincere però comunque un buon piazzamento al prossimo cesare dove ti vedremo l'anno prossimo sarò in zalf quindi proseguirai la categoria è direttanti al tuo corso di crescita chesini da queste parti è un cognome importante un chesini quasi piazzò si è sempre stato un cognome importante all'interno del ciclismo speriamo che lo sia ancora per molto tempo complimenti dunque buco al lupo anche terzo classificato cesare chesini in sogno di quest'oggi con noi c'è luigi rossi già presente che danni è uno delle colonne ciclismo presciano e francia cortino in particolare presidentissimo della polisportiva camignone luigi a te il microfono per la chiosa finale ma che dire è stata una corsa spettacolare grazie a tutti questi ragazzi che hanno avuto la voglia ancora di combattere e una nota un po dolente a certi direttori direttori sportivi che hanno un comportamento non troppo corso perché non si può iscriversi in una parte e poi pretendere sempre che le società ti cancellano dovrò rivedere un po tutto e ripensare avere dei pensamenti o non fare più le corse di unione che andranno a correre a fare i suoi mille chilometri per andare a correre o se no penso di fare una gara nazionale e invito veramente le società che serie che ci sono sempre state vicine parliamo di carlo giorgi che è da quando organizzo è sempre presente ha sempre dei corridori validi però mi rincrisce di aver lasciato casa due squadre che sono molto importanti perché avevano avevo già 240 iscritti e questo non è un comportamento corretto io io capisco anche per la trevigliese mi dispiace mi dispiace perché chi organizza se non avere là dei corridori non è una bella cosa perché anche loro fanno tanti sacrifici e io con loro non ho nulla però signori non stiamo attenti quando si apre l'iscrizione dopo di un minuto che c'è aperto l'iscrizione aver già iscritto tutti per la paura di perdere il posto e poi cancellarsi tutto questo qua è un comportamento che non mi piace disgustoso e avrò dei pensamenti però voglio ricordare a questi signori che io organizzavo già le corse forse quando loro non erano ancora nati però si lamentano che non ci sono le corse questo qua il comportamento non mi sembra è una corsa molto tecnica molto spettacolare poi è una corsa molto ricca dei premi perché ci sono 12 medaglie d'oro e un bel gruzzolo di soldi questo qua non vale dovremmo fare solo il punteggio fici e venire a correre così scusate il mio malcontento ma però do un bel alloggio a tutti questi ragazzi che hanno dato battaglia hanno dato spettacolo oggi è stata una bellissima giornata e complimenti veramente a tutti questi ragazzi Luigi è complessibile comunque il tuo amato marezza comunque però tanti altri grandi atleti oggi sono presenti dare onore a questa questa mai classica di fine stagione per camminione la sesta in fine organizzativo dai giovanissimi agli uniones complimenti grazie grazie a voi e dai arriva a dirti all'anno prossimo però con un ripensamento sulle corse di unione perché io ho organizzato due corse di unione quest'anno non so poi si lamentano perché non ci sono le corse grazie e arrivederci grazie dunque grazie a Luigi Rossi patronna della polisportiva camminione ovviamente complessibile la sua amarezza ma altrettanto comunque importante soddisfazione per aver visto tanti grandi nuovi oggi protagonisti su questo percorso impegnativo che ha visto il trionfo di un ragazzo davvero interessante come il ligure Luca Giaimi noi siamo in chiusura adesso teniamo ancora conferma per la chiusura c'è con noi anche il patronna della team Giorgi seconda volta vincitore quest'anno quest'oggi in questa gara anzi dopo seda buono 2009 quindi ancora protagonisti in questa corsa voi diciamo che questa gara mi è un po' a cuore perché c'ho l'amico Rossi che è un amico caro e ci tenevo a vincere una ancora qua da lui abbiamo vinto la prima gara qua da lui e questa è la seconda di questo anno e sono molto contento ecco tu le vinte tante caro di gare in carriera come presidente ma ogni volta si è sempre emozionato sembra quasi sempre la prima volta eh sì ogni gara c'è una storia perché io quando dico ai ragazzi io non mi ricordo quando avete vinto anche se abbiamo vinto la domenica prima purtroppo il carattere così complimenti dunque anche a Carlo Giorgi una delle figure di spicco del ciclismo giovanile in terra bergamasca e non solo c'è aggiunto anche il leone malaga ovviamente che ha pilotato oggi i ragazzi della miraglia quindi ci togliamo ancora il microfono ci smicrofoniamo erano in tre nel gruppo di testa oggi privitera le ali e il bomber di riferimento già in mi nata bene è andata molto bene ci tenevamo in modo particolare sia per l'importanza della gara che veramente merita per l'organizzazione spettacolare per la giornata che è uscita e per il presidente della società organizzatrice che si dà in quattro e il suo sfogo è pienamente condiviso e ci tenevamo a fare bene soprattutto per chiudere la stagione e noi domenica prossima non corriamo al ghisallo abbiamo chiuso oggi abbiamo iniziato mi piace dire che abbiamo iniziato a vincere qui sempre con Jaime e abbiamo chiuso con un'altra vittoria qui e siamo più che soddisfatti ma la squadra è stata veramente in generale spettacolare per tutto l'anno grazie a tutti grazie a tutti